Benvenuti e benvenute al webinar di quest'oggi dedicato ai best seller del trading che andremo ad approfondire con Emanuele Colacchi. Quest'oggi vedremo il manuale di analisi candlestick di Morris. Emanuele è un piacere averti qui con noi, benvenuto. Grazie, grazie anche per me Fabio. Quest'oggi andremo ad approfondire un tema davvero importante a mio avviso, cioè riconosce i pattern dedicato alle candlestick giapponesi. Infatti vi ho chiesto tramite sondaggio se nelle vostre strategie di trading utilizzate già quelli che sono dei partner di prezzo basati sulle candlestick giapponesi. E ci sono tre opzioni, sì sono importanti per le mie strategie, no, opero basandomi su altre strategie, benvenga, e se siete alle prime armi e quindi dovete approfondire. In ogni caso siamo qui apposta e con Emanuele Colacchi andremo ad approfondire tutto quello che è il mondo delle candlestick giapponesi facendolo attraverso questo best seller. Emanuele ti ho lasciato la palla, puoi condividere tu il tuo schermo, così andiamo dritti al punto. Io lascerò il sondaggio aperto per qualche minuto così avremo un po' il punto della situazione. Ne approfitto per ricordarvi che questo webinar è registrato, lo potete trovare poi in video library, però dopo vi faccio vedere un po' il percorso. Vai Emanuele. Grazie Fabio. A te. Io sono molto molto contento di ristare di nuovo con voi per questo best seller che veramente è un po' una pietra miliare del trading, sono contento anche che con Fabio e con Fine che abbiamo scelto un pochino di affrontare questo argomento che è molto sentito, quindi avremo sicuramente da passare un bel webinar insieme. Qui per chi non avesse, diciamo, chi fosse la prima volta un po' che mi conosce, qui trovate tutti i miei dettagli, per potervi, diciamo, per poter rimanere in contatto con me, la mia mail, quindi se ci fossero delle cose che in questo webinar vi dovessero rimanere, diciamo, molto chiare o qualunque tipo di approfondimento vogliamo, diciamo, avere, potete sicuramente contattarmi tranquillamente, diciamo, sulla mia indirizzo mail. In più vi ho lasciato il sito internet in cui oggi pomeriggio vi caricherò la presentazione, in modo che così possiate, diciamo, visionarla, rivederla, studiarla in realtà. Ehm, diciamo, in questa presentazione oggi ho cercato di condensare alcuni di quelli che sono i frutti più interessanti dell'analisi di Morris, andando sia, chiaramente, a studiare i pattern, ma soprattutto cercando di estrapolarvi alcuni dei contenuti che sono più importanti. Chiaramente è impossibile, diciamo, esaustivamente trattare un libro di 200 pagine che richiede un approfondimento, per cui la presentazione è veramente a disposizione. In più, chiaramente vi rimando al libro, sì, alcune di queste parti vi sono riputate interessanti. La cosa bella, diciamo, di questo ciclo di bestseller che facciamo è darvi una prima infarinatura, in modo tale che così possiate subito capire, ok, mi interessa, voglio andare a fondo, e in un'ora farsi un'idea, è una cosa importante, piuttosto che magari spendere soldi e comprarsi il libro e ritrovarsi con una cosa che poi non viene utilizzata. Va bene? Questo è un pochino il succo. Ultimo punto, chiaramente, è il canale finanza indipendente a cui vi do a iscrivervi, perché è il mio modo, invece, per comunicare con voi. Quindi la mail, chiaramente, sfruttatela per scrivere a me, invece io per potervi magari dare alcune informazioni, idee, approfondimenti. È un canale in cui metto anche idee di trading, è un modo per me per rimanere in contatto. Poco invadente, immediato e rapido, quindi su Telegram c'è questo canale che sta raccogliendo sempre più iscritti, quindi mettetevi in contatto per rimanere sempre, diciamo, aggiornati. Perfetto, questi sono i riferimenti. Chiaramente oggi ci appoggeremo anche alla Fineco X, alcune delle cose che vedremo, navicheremo un po' sulla piattaforma, che tutti abbiamo a disposizione gratuitamente come clienti per Fineco. E sulla parte, diciamo, di candele, chiaramente per noi è molto utile. Va bene, quindi ci sono delle slide in cui le ho fatte volutamente didattiche, poi ci appoggeremo anche allo studio della parte di Fineco X per l'analisi live. Quali sono i contenuti? Quindi, se volessimo scegliere un libro con cui lanciarci nello studio delle candele, bene, il manuale di analisi di candlestick di Gregory Morris sarebbe il nostro punto di partenza. Dico perché sarebbe il nostro punto di partenza in quanto, rispetto ad esempio ad altri libri che anche trattano candele, unisce due mondi che alle volte sono intesi molto distanti. È un libro sicuramente che ha la sua età, ma questo non toglie che i pattern, diciamo, molto non si siano distanziati da questo. Cioè, l'analisi di candele è rimasta sostanzialmente quella raccontata da Morris. Cambiano gli strumenti finanziari per poterle, per poterle datare, la grafica, ma le letture sono quelle, perché ci raccontano una storia che è sempre la stessa, che è quella della psicologia dei mercati. Cioè, la bontà delle candele, lo vedremo poi dopo, è quello di riuscire a unire, da un lato elementi quantitativi, dal lato cercare di cogliere quei wild spirit, quel sentiment di mercato che soltanto, diciamo, la lettura di candele riesce a darci in maniera immediata. Chiaramente oggi il mondo si è evoluto tantissimo, quindi si fanno anche sentiment analysis sui tweet di Twitter e così via. Si fanno algoritmi di machine learning, però tutte queste cose, che possono essere anche catturate fuori da quello che è il contesto di mercato, viene poi riportato sempre a un'azione sul prezzo. Quindi conoscerle è importantissimo. Tradare secondo i pattern di candele è un'altra storia, che poi ognuno sceglierà, diciamo, non soltanto dopo il mio webinar, però continuando a documentarsi e approfondire, deciderà se è il caso o meno di andare a tradare secondo questi pattern. Io cercherò di raccontarvelo nel modo più indipendente possibile, in qualche modo. Sto cercando di non farmi deviare da quello che è il mio approccio. Chi mi conosce da più tempo sa che io prediligo un approccio più ingegneristico, passatevi in termini, più basato su indicatori. Forse anche questo mi ha portato a cercare ad estrarre, a dare una lettura di questo libro positiva, in quanto ho estratto anche diversi elementi quantitativi, che saranno una delle vere novità di questo libro. Non è poi l'unico, ne sono usciti altri, come per esempio l'enciclopedia dei pattern di candele e altri ancora, che trovate riportati anche sul sito AlgoCaprio, nella parte di libreria del trading, ne trovate anche altri. Però Morris ha questa bontà. Il fatto di essere riuscito a partire dalla storia delle candele, a estrarre moltissimi pattern, infatti ne troverete tantissimi, e agganciarci una sorta di analisi statistica. Va bene? Quindi oggi sarà questo il percorso. Che chiaramente a me la parte di analisi statistica delle candele mi è piaciuta molto, ed è qualcosa che salvo sicuramente. Nella prima parte invece di analisi di pattern, che vedremo insieme, io salvo sempre la parte psicologica di lettura del mercato, trovo io personalmente molto più complicato poter trasmettere questo tipo di conoscenza, perché serve un occhio allenato molto, molto tempo. Ok? Ed è quindi una serie di competenze che è più difficilmente trasmettibile rispetto a indicatori o altre tipologie di analisi tecnica basali su programmazione. Ok? Queste sono un pochino le cose. Il libro, quindi, come abbiamo detto, fa un'analisi approfondita delle candlestick. Parte dalla loro storia. La storia è molto bella, se volete, anche evocativa, e il fatto che troviamo, e troveremo, diverse... Scusate, ma oggi ho un bruttissimo attacco allergico, nonostante ho preso l'antistaminico. Forse molti di voi mi capiranno. Ehm... Vi chiedo perdone l'antistico se mi vedrete col fazzoletto o starnutile. Ehm... L'analisi di candlestick Ehm... Affonda nelle origini del mercato dei future, sostanzialmente. Si racconta, appunto, che tra il XVII e il XVIII secolo in Giappone diversi attori che hanno figure più o meno mitiche operassero sui mercati del riso, anche a molta distanza, trasmettendosi informazioni attraverso grafici a candele. Mi fa ridere, se volete, pensare a questo, perché dietro una figura o un nome giapponese c'è anche l'ideatore del bitcoin oggi, no? Satoshi Nakamoto. E' sta figura mitica. Beh, sembra che il Giappone sia stata in qualche modo la patria di diverse... di queste innovazioni, no? Quindi... Trading su mercati future, grafici a candele, criptovalute, e così via. Oggi non sono più chiaramente così antiche. Sono diventate una conoscenza diffusissima per molti dei vantaggi che vedremo insieme quest'oggi e sono diventati lo standard nei mercati. Se infatti, ad esempio, apriamo la Fineco X, chiaramente, immediatamente la prima opzione, per qualunque titolo noi andassimo a graficare, è direttamente imputato con un grafico a candele. Va bene? Non c'è la scelta. Un tempo, sicuramente, avremmo visto più facilmente i grafici a linee o nella tradizione, magari, che era un po' più raffinato della tradizione occidentale dei grafici a barre. Oggi viene dato di default i grafici a candele. Va bene? Perché sono diventati mainstream. Però bisogna saperli utilizzare e capire se e quali pattern sono effettivamente vincenti rispetto ad altri. Vi sorprenderà, ve lo anticipo già, moltissime delle cose che vedremo che vi tratterò vi sorprenderanno alla massima maniera. Fabio, stavo pensando se possono, magari, o tramite un sondaggio a risposta aperta, non so, qualcosa, oppure magari, probabilmente, anche scrivendo in chat, così a campione, mi farebbe piacere se adesso, a inizio webinar, mi scrivessero, diciamo, o ciascuno di voi, mi scrivesse, ci scrivesse, qual è il pattern di candele, per quelli, chiaramente, che sono un po' più addentro, qual è il pattern, secondo voi, di candele più famoso. Va bene? Aspetta, aspetta che creo un sondaggio a nuvola, ok? Solo un istante, eh, crea un sondaggio, nuvola di parole, in questa maniera, loro scrivono, e vediamo la nuvola che diventa più grande. Qual è il pattern di candele? Sì, il pattern di candele è più famoso, quindi, chiaramente, chi è esperto, ne conosce qualcuno, se ce lo può scrivere, quindi, pattern di candele che più conosce, va bene? Prima ancora di entrare, così, vediamo un pochino, e vediamo, visto che ci ho, l'ho aperto, dovrebbe tombarire uno slide, scrivete, e tra un po' vediamo qual è la parola, eccolo qua, lo vedo anche io, lo vedo qua, giusto, si appare, si, 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 Amer, Isola, Amer, Amer, benissimo, bravi, state rispondendo bene, avete capito perfettamente, poi magari, vi condividerete Fabio per vedere il risultato? Non lo vedete voi? Tu non lo vedi che si sta, perché io, ho solo l'opzione, nascondi i risultati, quindi vuol dire che già, Ah, eccolo qua, sì, sì, ce la faccio, eccolo qua, benissimo, sono contento, sì, bravi, bravi, state rispondendo bene, cercate di, appunto, di focalizzarvi, e poi vediamo un pochino, intanto la facciamo formare, vado un pochino avanti, la rimediamo, e ci rivertiamo, ci sorprenderà, allora, le candele, fondamentalmente, ci raccontano una storia, qui vi ho riportato alcune candele, voi sapete poi ognuna, per i più esperti di voi, i giapponesi, che sono delle persone, persone molto votate, lasciatemi dire, alla, alla grafica, no? Da là nasce anche i nuovi fumetti manga, anche la loro stessa scrittura, se volete, è qualcosa, figlia di, una dote artistica, e, queste candele, loro hanno ricamato moltissimo, quindi anche le singole candele, hanno un nome, Boz, Marubozu, Doji, e così via. Qui vi ho provato, diciamo, a riassumere, chiaramente, una lettura standard, della singola candela, molto semplice, perché, spero sia comune per tutti, chiaramente, è carino, secondo me, vederlo qua riportato, è un, vuole essere una sorta di tips, immediato per vederlo, chiaramente, si parte dalle candele a sinistra, in verde, che è la più, la candela più bullish, in assoluto, che vuol dire che, in presenza di un trend, rialzista, ad esempio, da immediata conferma, della lettura, di un trend, e via via, vanno, a, diminuire, di intensità, come lettura bullish, mh, allo stesso tempo, chiaramente, le letture bearish, partono da quella a sinistra, che è la lettura più bearish, che ci possa essere, di una candela piena, senza, ombre, fino, alle candele, via via più indifferenti, va bene? questa è una lettura di massima, non è un caso, ad esempio, prendiamo questo titolo, AMD, che oggi, insieme a Nvidia, faranno sfacere il mercato di apertura, e vengono anche in un grande trend, lo vedete bene, al termine di un trend, anche brevissimo, diciamo, un trend di medio periodo ribassista, colminato anche con un cap down, abbiamo prima, questo tipo di candela di inversione, e per la prosecuzione del trend, due forti candeli bullish, che lo portano su, ok? Questo è chiaro, è abbastanza, diciamo, evidente, ci sono candele più deboli, che effettivamente, arrivano in un momento, poi, di fase laterale del trend, e via, così discorrendo, va bene? Questo perché è importante, perché chiaramente, ci vanno a raccontare, una storia dell'intensità del mercato, ma questo non ci basta, ovviamente, la teoria, diciamo, delle candlestick, hanno cercato, di andare a costruire, dei pattern, ovvero, conformazioni di candele, che si comportano in un determinato periodo, possono aiutarci, a capire, se siamo in presenza, di, una continuazione del trend, o un, diciamo, inversione del trend, va bene? quindi, in inglese, reversal e continuation pattern. Il concetto che fondamentalmente sta alla base del libro, lo vedete riportato qua, cioè, il vantaggio competitivo, che il libro ci vuole provare a raccontare, ci vuole provare a vendere, è questo, che se noi siamo in grado, di trovare determinati pattern, che si presentano nel tempo, possiamo puntare a entrare nel trend, prima degli altri. ed è abbastanza onesto, da dirci anche, che, se noi adesso, ad un pattern di candele, siamo in grado, di associarci, un'analisi statistica, o alcuni indicatori di filtro, miglioriamo le performance. Questo chiaramente mi è piaciuto, perché moltissimi, libri sui pattern di candele, ti affermano che bastano le candele, e tu opererai, e diventerai ricco domani. Questo non è chiaramente vero, ma bisogna associarci, un percorso di costruzione, sempre e soltanto, torniamo là, al discorso che io batto sempre il piede, sulla costruzione di un sistema di trading. Se voi non vorreste usare gli indicatori, su cui io batto molto, ma usare dei pattern di candele, come vedremo oggi, beh, lo dobbiamo fare, ma ricordandoci sempre, che va costruita una strategia, che poi questa sia statistica, o sia tramite indicatori di filtro, che vedremo entrambe, è importante farlo. E qua quindi riassumo gli aspetti, e andremo a fare un deep dive su ognuno di essi, va bene? Avremo quindi, immaginatelo come una sorta di enciclopedia in libro, bene? Una grande enciclopedia, in cui, vengono veramente presentati, uno ad uno, uno ad uno, tutti i pattern possibili e immaginabili. Pattern di continuazione, come vedete, di un trend, quindi, si immagina che il trend, si sia originato rialzista, che possa continuare rialzista. Oppure dei pattern di inversione. Come numerosità, potete già capire, che i pattern di inversione, sono superiori, rispetto ai pattern di continuazione. Bene? Però, vi racconta entrambi, approfonditamente. Ogni pattern ha una sua scheda, quindi c'è la figura, c'è un aspetto, diciamo, di lettura psicologica, insomma, è la parte un po' più interessante, e ci sono un esempio pratico, su un determinato titolo, va bene? Esattamente come, per esempio, avrei potuto fare, come vi ho fatto vedere io su AMD prima. Prendiamo il grafico, creiamo un pattern, e ci raccontiamo un aspetto psicologico, va bene? Appositamente, avevano scelti alcuni. E vedremo perché. Dopo questi pattern, lui, performa, questa cosa che mi interessa molto, e che vedremo, un'affidabilità dei vari pattern. Quindi, una volta che se li è schematizzati tutti, prende una base dati, sufficientemente ampia, secondo me, in cui va a analizzare, le bontà statistiche di questi pattern. È chiaro che quelli sono dei dati interessanti, sono figli, e che li vedremo anche oggi. Ricordatevi sempre che sono però figli, chiaramente, del sotto insieme, di dati che lui si è andato a prendere. Quindi, le principali 100 azioni, il mercato ha preso 100 azioni americane, ha preso un tot di future, va bene? Sono scritte queste ipotesi all'interno del libro. Quindi, questi dati, anche, che vedremo, sono figli del sotto insieme che lui ha preso. A noi ci interessa relativamente, nel senso, se volessimo avere immediatamente applicazione di un pattern, ok, ma la cosa più importante che ci dobbiamo portare oggi dietro da questo, è la possibilità di creare delle statistiche sui pattern. Perché poi saremo noi, attraverso Python, attraverso altre fonti che vogliamo provare a utilizzare, attraverso dei file Excel, quello che volete, costruirci noi la nostra analisi ad hoc per lo strumento finanziario che vogliamo, su cui vogliamo operare. Quindi, voglio operare sul future del Fuzzi Mib, sul Nasdaq, voglio operare su un'azione determinata, bene, performo un'analisi dei vari pattern, e vado a scegliermi, a trovarmi quelli che sono più affidabili statisticamente, va bene? Quindi è l'approccio, soprattutto, che ci portiamo dietro in più, avremo anche dei pattern, nel suo sotto insieme, più affidabili, va bene? però là, chiaramente, dobbiamo fidarci del lavoro fatto da, Morris. In più, andremo ad analizzare anche alcune tecniche per filtrare i segnali, vi farò qualche accenno lì, lo vedremo anche sulla Fineco X, e infine, anche un buon accenno sulle candele volumetriche, va bene? che sono una particolarità di candele del, che possiamo graficare con Fineco X. E qua si esaurisce il libro, sostanzialmente in questi cinque aspetti si esaurisce il libro, va bene? Adesso li ripercorriamo, andando a fare appunto degli approfondimenti. Nel frattempo, mi prenderei, il sondaggio, vediamo se riesco a ritirarlo fuori. a quello che avevo lanciato prima? Sì. Era Hammer. Hammer, ok, bravissimo. Però, ti ricordi, poi avevo visto anche, era Hammer, poi c'era, Gulfing. Sì, Morningstar, Shootingstar, Gulfing Bullish, Teste e Spalle, Gulfing Bullish, sì, poi comunque ce n'erano tanti, quindi vuol dire che, secondo me, molti, sono diverse. Guardiamoci questi nomi che ci ha detto Fabio, perché sono importantissimi, perché questo è quello a cui vi ha portato, i siti internet, quello che avete visto. Pronti? Eh? Questo qua è la cosa importante, io me l'aspettavo. Avete nominato effettivamente quelli che sono i pattern, più importanti. Qualcuno mi ha mai raccontato, se sono affidabili o meno? Tutti questi pattern, chiaramente, sono raccontati anche nel libro di Morris, è importante questa cosa, ok? Ci sono, li trovate. Ve ne racconta alcuni, un po' diversi, e poi capirete perché, va bene? Col beneficio. Passatemi, passatemi l'attenzione un attimo su questi, quattro pattern, voi immaginate che erano, mi sembra, un centinaio da una parte, un centinaio dall'altra, e scusatemi, 150 e 50, più o meno, no? Quindi immaginate, e c'erano tutti quelli che avete citato voi. Ve ne ho estratti qualcuno, che immaginavo che non avreste citato, e l'ho scelti anche per un altro motivo, che vedrete poi subito dopo, se portate pazienza. Pattern di continuazione, va bene? E poi ne ho scelti quattro, come pattern di reversal. Al solito, qualunque domanda, fermateci senza, alcun tipo di problema. I due pattern, diciamo, evidenziati a sinistra, hanno una lettura, lettura ribassista, come vedete portato in downtrend, i pattern che vedete sulla destra, hanno una lettura rialzista. I primi due pattern, vestiti per orizzontali, quindi, falling tree methods, e rising tree methods, sono uno lo specchio dell'altro. Fondamentalmente, abbiamo una candela ribassista, un tentativo di inversione del trend, che non è durato poco, ha permesso anche addirittura tre candele, tre sezioni, che possono essere qui, giornaliere al minuto, è indifferente, a noi interessa relativamente poco. Morris si focalizza su candele giornaliere, che chiaramente, gli danno una lettura migliore, della psicologia di quello che può essere il mercato, però, non la vieta di poi applicarle, a più brevi periodi. Ed infine, una candela che, si rimangia tutto il trend di fondo, sostanzialmente. Questi due metodi, vengono raccontati, secondo uno scenario, una psicologia che c'è dietro questo pattern, li vedete entrami, e li ho riportati qua. Vi ho riportato le parole, più o meno, rivisitate un po', riadattate ai giorni attuali di Morris. Normalmente, e questa è una cosa anche carina, interessante, va sempre a leggere di una battaglia, che c'è dietro l'andamento dei mercati. La cosa interessante di questi metodi, quando si verificano, è che, si insinua il dubbio, qua immaginate che vengano da un trend di bassista, si insinua un dubbio nel mercato, se questa candela qui non l'aveste, è l'ultima, è evidente che ci sia un dubbio nel mercato, in quanto il trend di bassista di fondo, può aver fermato sostanzialmente la sua discesa. Lo fa però con candele non molto ampie, lo vedete? Sono candele abbastanza consistenti, in apertura, ma non molto ampie. Bene, questo, diciamo, timido tentativo del mercato di rialzare, di rialzare, non rompe, l'apertura che si aveva all'interno di questa forte candela di bassista, e per tutta ragione, in un giorno, rimangia tutto quanto, il trend di fondo. Il leve rimbalzo che c'è stato. Questa è una lettura di continuazione, ovvero, se vediamo questo pattern, ci possiamo attendere che il mercato continuerà a scendere. Medesima lettura, nella, nella figura a destra. E il trend, in questi casi, riparte, la lettura classica, che si dà è che il trend riparta più forte di prima. Un'altra, diciamo, trend interessante, vengono definite le separating lines. In un trend ben definito, qui appare una candela, una, anomala, che è quella rialzista, o ribassista di sinistra, di destra, scusatemi, ed è opposta al trend di fondo. Normalmente, in queste candele, si generano, delle prese di profitto, da parte degli operatori. Appena generate, dura una giornata, e, l'apertura successiva, come vedete, è qua ben riportato, state attenti, chiaramente, a queste piccole, diciamo, conclusioni, l'apertura, e piccoli dettagli, nella parte, diciamo, grafica, perché sono poi fondamentali, l'apertura, va esattamente in linea, a quella che è stata, diciamo, la, l'apertura del giorno, precedente, e va invece a riproseguire, in maniera abbastanza forte, il trend di fondo. Bene. Sono le classiche candele, quelle definite da presa di profitto. Va bene? Anche in questo caso, sia a sinistra che a destra, si continua, ad andare avanti, con il trend, di fondo. Abbiamo, poi, i pattern reversal. Qui alcuni, me l'avete nominati, non erano tre più comuni, però l'ho visti. Eh? E qua, chi l'ha visti, può essere, diciamo, abbastanza contento. Abbiamo, i, eh, three white soldiers, cioè, i tre soldati bianchi, o, l'equivalente lettura ribassista, dei tre corvi neri. Attenti, perché molto spesso, pure qua si fa una, una grossa, diciamo, imprecisione, quando vengono, cercati di definire, questi, questi, questi pattern. Dobbiamo avere, massimi, massimi, che sono, di via via, crescenti, scusate, mi prendo la penna, così ve la evidenzio, massimi, vedete, via via crescenti, ma ogni volta, il mercato, per avere, three white soldiers, deve aprire, sotto, quello che è stata, la chiusura del giorno precedente. Cioè, ogni volta, che si crea, questo pattern, il mercato, per ben, due volte, ha avuto la forza, di, riprendere, i livelli, che aveva avuto il giorno prima. Partendo debole. Capite come la lettura del mercato, poi qua lo potete pure leggere, ve l'ho messo. Ogni volta, parte debole, ma ha la forza di riagganciare, magari anche con fatica, ma sicuramente di segnare nuovi massimi. Solo in questo caso, si ottiene quella che viene definita, la conformazione white soldier. E allo stesso modo, black crowds. Black crowds, ogni volta, il mercato ha, sembra avere la forza di ripartire più forte, perché questa è l'apertura, ma, tendenzialmente, ogni volta a chiusura, va a segnare nuovi minimi. Ok? Queste due conformazioni, li portiamole, diciamo, a casa, perché, ci vanno a raccontare, in questo caso, la possibile inversione di un trend. Ok? Qui quindi veniamo da un trend ribassista, se abbiamo questa conformazione, attenzione che ci possiamo attendere, una ripresa del mercato. Allo stesso modo, se veniamo da un trend rialzista, in questo caso, se si crea questa conformazione, è altamente probabile che il mercato vada a riscendere. Ok? In più, vi ho, diciamo, evidenziato, altri due reversal leggermente particolari. Il primo, mi è piaciuto che sia uscito, diciamo, in alcune vostre analisi, lo ritrovate qua. Questo qua è il classico engulfing pattern, vero? Ribassista, chiaramente, in cui abbiamo una candela ribassista che si è completamente mangiata, una timida candela rialzista che c'era il giorno precedente. Morris però, oltre all'engulfing pattern, che è un pattern, che conoscete tutti, crea il tree outside down, ovvero, una conformazione che è data dall'engulfing più una candela di conferma. Ok? Quindi è come se fosse un engulfing pattern rinforzato, passatevi il termine. Ok? Allo stesso modo, vi è questa conformazione che l'ho vista, anche che qualcuno ve l'ha citata, molto bene, che è lo stick sandwich. Ok? In questo caso, rialzista. Bene, esiste anche, chiaramente, la conformazione opposta che prevede due candele verdi e una candela rossa. Questo è chiamato stick sandwich perché, appunto, ha la forma, insomma, di un sandwich con due candele che vanno, in qualche modo, a due candele dello stesso colore che vanno a comprimere una candela di colore opposto. È come se fosse, appunto, un sandwich rotato di 90 gradi. Queste conformazioni le avete, immagino, tutti quanti in mente perché sono le peggiori. Io qua ho scritto sono a forte rischio, alta volatilità e, soprattutto, scattano moltissimi degli stop loss. È proprio nel momento di massima indecisione del mercato in cui questi bruschi movimenti da un lato e dall'altro ci fanno, purtroppo, scattare molto spesso degli stop loss, data l'elevata volatilità. Bene. Vediamo se possiamo approfittarne, chiaramente. Ok, quindi ricordiamo... Emanuele, ti chiedo, Lino ti chiede se la Free Metals è similabile a una IDNR4. E diciamo possiamo apodizzarla. Sono due pattern chiaramente leggermente diversi. Sono diversi. qualche similarità chiaramente, come l'avete visto, no Fabio, giustamente, il Tree Outside Down è molto simile all'Engalfing, però sono delle piccole partitorie che poi li distinguono tra loro. E poi ti chiedono, Edoardo, ti chiede se potresti rispiegare brevemente i separating lines della slide precedente. Sì. Le separating lines, ribassista e rialzista, hanno questa conformazione. Sono, ricordati, i pattern di continuazione. quindi ipotizzano che io sto arrivando da un mercato ribassista. Ho una candela strana, rialzista, di poco. Normalmente queste candele come sono originate? Sono delle prese di profitto. Mi sa che l'ho scritto pure da qualche parte. Sì, ecco qua. Vedete qua. Prese di profitto. Ovvero, vuol dire che molti attori, diciamo molti operatori erano ribassiti sul mercato, cominciano a timida candela rialzista, viene fomentata chiaramente da più persone che vanno a ricoprirsi le posizioni short. acquistano e vanno a prendere. Se però già il giorno dopo in apertura vedete il mercato va ad aprire almeno in linea a quella che è stata l'apertura del giorno precedente vuol dire che questa storia raccontata qui è praticamente cancellata. Ok? Se il mercato riapre esattamente là o poco sotto vuol dire che erano veramente delle prese di profitto e gli operatori si sono poi completamente ribaltati nuovamente. Se viene creata una candela con un corpo diciamo consistente come in questo caso si ha una separating lines. Stesso identico discorso chiaramente anche nella parte diciamo rialzista no? Qua abbiamo un terzo rialzista candela compresa di profitto e riapertura sopra l'apertura precedente e via. Chiaramente più è intenso qua non lo dice Morris ma ci arriviamo da soli tranquillamente chiaramente se questo è più intenso maggiore è l'andamento della candela chiaramente ancora più forte sarà la lettura e anche i volumi poi lo vediamo insomma con le candele volumi perfetto sì 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 bene e adesso la parte sicuramente anche questa sarà interessante beh vi ho raccolto la parte quantificabile va bene è un po' complicato però voglio dirvi che sapete dove andare a trovare le informazioni in modo tale così qualunque approfondimento siete liberi diciamo di farlo sui lavori di Morris e qua vi stupirete del fatto che vi ho tirato fuori quei quattro otto pattern che vi ho fatto l'ho fatto col beneficio diciamo della bontà di prepararvi la lezione diciamo e anche delle mie conoscenze diciamo sul mercato delle candele perché tante volte la conoscenza comune che vediamo sui siti che vengono rimbalzate sono esattamente i pattern che conoscete peccato che e Morris lo conferma non sono affatto i migliori o i più affidabili anzi quasi tutti quelli che avete nominato sono tra i meno affidabili in assoluto i pattern che lui vede più performanti sono questi riportati qua su chiaramente il suo campione ciò non toglie quindi non voglio dire che se trovate una determinata azione x o y e lì il pattern hammer funziona perfettamente ci può stare è basato chiaramente su un campione qui il campione è abbastanza ampio quindi sono centinaia di azioni più i future per cui è un campione sufficientemente ampio crea due eh crea due ranking passatemi il termine purtroppo su questo ve lo dico non è assolutamente chiaro in quanto ha una parte di affidabilità standard quindi dice con il primo numero che vedete qua riportato ci dice quanto è vero che dopo x giorni ve lo fa per 3 per 5 per 7 giorni quanto è vero che effettivamente la lettura è stata rialzista o ribassista ok quindi ad esempio qua lo vedete riportato in piccolino scusate ho fatto una cosa concisa però in modo che avesse tutti i dati quindi se vedete dopo il nome il meno vuol dire ribassista se trovate il più vuol dire la lettura rialzista ok questa è la lettura della leggenda per esempio dopo 3 giorni il miglior pattern di continuazione che vale per un 100% quindi praticamente non sbaglia mai è il falling three minutes ok poi ritroviamo le separating lines e il rising three minutes la cosa più interessante che a me piace raccontarvi vedere cioè perché poi questi numeri ve li ritrovate non è un problema poi vi dico anche il secondo numero cosa importa però la cosa interessante da notare è cercare di trovare anche una sorta di stagionalità che è importantissima in questi pattern ovvero si vede ad esempio che l'affidabilità del falling three minutes per i 3 giorni cala drammaticamente a 5 per poi riprendersi bene qua chiaramente qua vi ho portato le best 5 voi immaginate qua è su 100 cioè il fatto che comunque il falling three minutes rientri nella top 5 che vada ancora migliorandosi ci dà la maggior certezza che il pattern sia affidabile ancora meglio se volete lettura migliore in assoluto secondo i dati di input che ha preso Gregory Morris sono le separate in lines addirittura quelle rialziste guardate qua sale e rimane stabilmente migliore poi immaginatelo confrontato con vi ripeto con centinaia e centinaia di pattern il primo però quindi è l'affidabilità in termini di lettura del trend il secondo è un ranking che crea lui proprietario troppo non sono riuscito neanche a decifrarlo non dà alcun dettaglio nel libro è sempre stato da mio interesse chiaramente ci ha venduto sopra dei prodotti come potete immaginare quindi affidabilità ranking è data da un suo ranking proprietario va bene quindi lo prendiamo con le pinze col dovuto interesse va bene ci interessa relativamente ok io l'ho ordinati per affidabilità che è qualcosa diciamo di più confrontabile va bene e questi sono sui pattern di continuazione anche i pattern di reversal li vedete qua e diciamo vi stupirà ritrovare appunto molti di quelli che vi ho fatto vedere rivedete soprattutto che torna moltissimo il concetto 3 le cose le cose con cui vi voglio diciamo focalizzare è che la conformazione white soldier rimane stabilmente lì e anche i three black crowds addirittura per i three black crowds c'è anche la parte identica ok quindi immaginate che sono proprio esattamente le candele della stessa ampiezza va bene un caso piuttosto raro quando capita chiaramente una performance elevatissima di tutti quelli che abbiamo visto poi vedete inside outside down più o meno tornano la novità diciamo poi l'ho voluto mettere comunque per prestarvi attenzione chiaramente è lo stick sandwich ok lo stick sandwich che se andate a vederlo qua nelle statistiche sta in posizione vado a memoria 60 70 quindi è molto poco performante a tre giorni lo diventa per periodi temporali molto ampi bene quindi fa una risalita fortissima fino ad arrivare alla prima posizione se vi dovessi dire tra tutti lo ritengo il meno affidabile chiaramente perché questo grande cambio di performance a me personalmente mia lettura personale piace poco preferisco dei pattern che sono ritenuti più stabili qua all'interno va bene e su questo penso sia uno dei più importanti a moment che ci dobbiamo portare a casa cioè di momenti un po' di illuminazione dire ah ok tutto quello che so di candele magari è importante devo però cercare di approfondire e trovare un approccio in qualche modo statistico va bene la diciamo l'affidabilità di questi pattern è in qualche modo figlia appunto del campione che vi ho detto la parte interessante ancora che mi piacerebbe trasmettervi è un'ultima ovvero Gregory Morris insieme a questi pattern di candele aggiunge l'innovazione diciamo delle candele volumetriche io non so quanti di voi hanno avuto modo mai di focalizzarci si sopra possono essere un'ulteriore diciamo upgrade al nostro trading in qualche modo vi riporto questo screenshot e poi vi faccio vedere su Fineco X come poterle diciamo impostare qua ad esempio l'ho preso sul titolo Eni vedete bene diciamo le candele fotometriche per chi l'ha visto la prima volta fondamentalmente vanno a costruire il pattern di candele esattamente quelli che abbiamo visto insieme con gli altri eccetera vi va a costruire con le stesse regole però la base della candela è figlia dei volumi sottostanti ok quindi se in una determinata giornata si scambiano moltissimi volumi sul determinato titolo cresce l'ampiezza della candela viceversa se ci sono giornate di trading con volumi molto ridotti le candele sono quasi invisibili per farle crearlo live molto semplice andate qui e vedere la parte candele volumatiche ok e vedete ad esempio che quelle candele che erano si interessanti con una lettura interessante diciamo la parte di tmd vengono contemporaneamente rafforzate da volumi crescenti volumi molto importanti anche rispetto a quelli che erano nel trend di breve questo lo potete fare su qualunque tipo di analisi titolo e così via va bene questo è importante perché si affida a quello che è uno degli elementi uno degli assiomi dell'analisi tecnica che con me che ha visto diciamo che ha seguito un po' di corsi sa benissimo che il volume deve espandersi nella direzione del trend e quindi se io ho candele di inversione in questo caso io sto cercando un pattern in questo caso di inversione non è esattamente un 3-wide soldier ma c'è abbastanza vicino vedete qui l'apertura è stata fatta sotto qua di poco bastava che fosse stata fatta sotto e sarebbe stato un 3-wide soldier proprio da scuola lo è quasi e anche se non lo è abbiamo un'ulteriore diciamo conferma del trend dato dai volumi continuamente crescenti che vanno a rafforzare e si espandono nella direzione del trend di fondo vuol dire materialmente che le azioni iniziano a diventare scarse c'è necessità di esse e si tende ad acquistarle a prezzi crescenti di volta in volta e ogni volta che apre in gap down si compra per poterlo portare ancora su va bene? ricordatevi quindi candele volumetriche sono più difficili da leggere secondo me complicano ancora la cosa è bene utilizzarle quando abbiamo una piena conoscenza di quelli che sono i pattern quindi dobbiamo essere prima di tutto ferratissimi su tutti i pattern evidenziarne alcuni specie se stiamo operando in maniera discrezionale diciamo non attraverso automazione con con python ma se stiamo operando a schermo così possiamo controllare umanamente un numero limitato di pattern questo è indubbio quindi scegliete un sotto insieme e una volta che li padronizzate in maniera accurata potete pensare di andarla a visualizzare anche attraverso le candele volumetriche va bene questo mio suggerimento ancora un'ultima innovazione che ci dà un ultimo spunto che ci dà Gregory Morris è il filtro bene eccolo qua vi ho fatto vi ho fatto due esempi anche questi qua adesso li vediamo con sulla power disc immediatamente qual è il racconto che fa Morris che io trovo condivisibilissimo chiaramente perché qua poi devo venire a giocare in casa mia sostanzialmente quindi già mi piace moltissimo rendendosi conto della scarsa affidabilità dei pattern quelli più salimi il termine quelli più comuni neanche a parlarne l'avete visto si è accorto immediatamente che prendendo i pattern quelli più comuni non otteneva nulla quelli un pochino più particolari come avete visto più rari se volete ma più forti beh ha trovato dei risultati come posso provare a migliorare una serie di pattern che magari non funzionano benissimo grande idea mi vado a prendere un indicatore per filtrare questo ha dei pro e dei contro Morrison li racconta nel libro ve li aggiungo io chiaramente le candele nascono come una tecnica molto rapida no? perché ci permette di agire direttamente sul prezzo per poter operare in maniera veloce questa velocità quando ci andiamo ad aggiungere un indicatore eh lasciatemi dire si perde abbastanza cioè andremo con le candele al passo fondamentalmente dell'indicatore quindi questo potrebbe creare dei disallineamenti chiaramente ha il vantaggio che mettendo sul piatto una miglior tecnica di filtraggio ci aiuterà a cancellare tutta una serie di falsi segnali o false conformazioni che si trovano nelle candele ed evitare di operare in questo ambito va bene quindi taglia moltissime operazioni in perdita potenzialmente il che non vuol dire che non taglia anche fuori alcune operazioni potenzialmente in guadagno ma visto che sono operazioni con formazioni di batter mediamente perdenti andando a tagliare con questa tecnica che adesso vi dirò si creano un sotto insieme di operazioni in cui vengono scartate la maggior parte di operazioni in perdita e migliora quindi overall la profittabilità generale ok Morris ne fa vedere un paio che io vi ripresento vi riporto e sentitevi liberi di aggiungere uno di qualunque degli indicatori che abbiamo visto insieme anche nel ciclo di seminari che poi sicuramente riproporremo l'anno prossimo alcuni indicatori diciamo del mese che abbiamo fatto l'importante Morris dice guarda scegli l'indicatore come quello che sia cerca di sceglierne un indicatore che sia un oscillatore bilanciato cioè che viaggi tra 0 e 100 che abbia dei limiti molto diciamo predefiniti e sia in grado di darmi risultati di ipercomprato o di ipervenduto stabili quindi giusto per andare a citare una cosa che abbiamo visto insieme la volta scorsa il commodity channel index per esempio non è preferibile utilizzarlo in questo contesto per il semplice fatto che ha delle bande di oscillazione variabili nel tempo preferiamo diciamo farlo è preferibile farlo con valori di oscillatori fissi ad esempio fa l'esempio dell'RSI e dello stocastico come lo facciamo noi ci costruiamo questo lo togliamo ci costruiamo il nostro grafico scegliamo quali indicatori come avete visto e lo aggiungiamo adesso è importante quando l'avete aggiunto e lo stesso modo potete fare anche la parte diciamo di stocastico quando l'avete aggiunto il nostro la nostra fine eco x ci crea chiaramente il pattern appoggiato su quelli che sono i valori standard 80-20 ok in questo caso quindi per valori superiori a 80 il mercato è in ipercomprato valori inferiori al 20 è in ipervenduto come vedete qui non ci avrebbe dato alcuna indicazione no praticamente non è mai uscito da questi due valori il titolo sta vivendo una fase di ordinato quello che chiamo io ordinato trend di lungo periodo rialzista e seguito anche chiaramente da intra trend ribassisti però non sono mai abbastanza forti da generare delle letture estreme come fare e cosa fare in questo caso ma in casi generali in cui ad esempio il titolo non arriva mai a queste vette che vi ripeto qui non avremmo filtrato un bel niente non ci dà nessuna indicazione beh Morris dice non mettetevi però nelle fasce tradizionali che vi dà qualunque indicatore trovate un compromesso più stretto ad esempio per l'RSI possiamo andare a diminuire di 10 la zona di ipercomprato e di aumentare di 10 la zona di ipervenduto ok stringendo un pochino questa asticella va bene se non dovesse ancora dare indicazioni continuate a stringerla via via qua vedete che poche volte ancora lo dà però in questi casi ad esempio questo qua mi interessava farvi vedere in cui andiamo il mercato in ipercomprato una lettura di questo tipo che poteva essere diciamo identificata come rialzista viene filtrata dice guarda occhio il mercato sta salendo è vero però è arrivato anche a livelli eccezionalmente tirati forse questo è un pattern da escludere va bene effettivamente poi il mercato va a richiudere velocemente questo trend va bene e questo pattern qui invece ultimo rialzista avviene in una zona ordinata del mercato anzi sta quasi risalendo vicino da un'area di per venduto quindi il trend si sta espandendo in maniera concorde rispetto all'oscillatore viene confermato va bene questo è un'ulteriore diciamo difficoltà se volete di lettura ma un aiuto a quelli che sono i pattern di candele chiaramente utilizzando indicatori come potete capire che ha avuto vita facile e mi è piaciuto stesso discorso identico lo fa con l'oscillatore potete utilizzare l'oscillatore di Aaron e così via scegliete voi diciamo quello che sia e aggiungetelo secondo questa diciamo queste regole guida che vi ho dato quindi abbiamo un indicatore che si espande nello stesso modo del pattern che ho evidenziato entro ho un indicatore che mi sta raccontando una storia diversa preferisco evitare e non passare bene la frase che ho estratto dal libro per voi diciamo della giornata è questo uno dovrebbe sempre guardare lo dice Morris e io questo è l'augurio che vi faccio diciamo a voi poi vi lascio spazio alle alle domande non ho credo di avere moltissimi altri slide perché qua abbiamo fatto ah si poi vi dico una cosa qua sui pattern e poi ho finito diciamo la frase con cui voglio lasciare diciamo questo libro è tratta dal suo stesso libro uno dovrebbe diciamo tradotta uno dovrebbe sempre guardare le nuove tecniche con una buona dose di scetticismo questo è l'augurio che vi faccio quindi in generale anche di questi pattern trovate cercate di estrarre il buono ok personalmente non è una tecnica come sapete per tutti quelli che mi conoscono che utilizzo giornalmente mi fa piacere ho l'occhio per poterle diciamo sfruttare lavorare ma preferisco tradare più sulla parte di indicatori ciò non toglie che questi numeri e queste cose che abbiamo visto ci raccontano una storia interessante e quando vedo conferme dei pattern di candele per me è una bontà ulteriore quindi il trader deve essere un trader completo ma anche guardare gli stessi numeri di Morris quindi li ribaltiamo se volete non dico conto però a favore perché è un punto secondo me di maturità aver messo anche questa frase cerchiamo di vedere anche i suoi numeri bellissimi stupendi che vi ho tirato fuori io con la giusta dose diciamo di scettisismo cercando sempre di andare a scavare e migliorare vi dico un'ultima cosa non lo racconto esplicitamente in questi due libri che vedete questi due libri ci servono come base diciamo per python però vi voglio raccontare una piccola cosa su cui sto lavorando che forse vedrà la luce anno prossimo immagino diciamo grosso modo un po' secondo dalla pipeline di progetti però sto facendo un upgrade diciamo alla parte di python per il machine learning perché come avete capito cioè non so quanti di voi sono esperti addentro ma sul pattern recognition si è fondata il machine learning attuale tutte le immagini quando vedete su google per potervi registrare a un sito che a noi dà fastidio o tutta la parte diciamo di riconoscimento eccetera capite bene che quegli argomenti stanno andando avanti fortissimo beh che ci crediate oppure no si cerca sempre più di associarli anche ai pattern di candele per cui una tecnica che sembra dimenticata vecchissima lontanissima da quello che poteva essere una definizione quantitativa oggi sta diventando terreno fortissimo di ricerca anche per i trader quantitativi quindi a maggior ragione l'invito l'aguri è quello che continuate a studiare non vi demoralizzate se avete se conoscete soltanto pattern non vincenti ma avete tutte le competenze e la capacità per poter andare con pattern diciamo buoni sapendo anche che si sta preparando un mondo anche nel trading una bella rivoluzione su questi pattern ed è un bel salto di qualità poter immaginare bene da quella che è la pura analisi statistica perché un conto è avere una statistica un conto è avere un sistema di pattern recognition scritto in pattern su machine learning che ci permette di conglobare insieme riconoscimento dei pattern di candele unendoli anche a indicatori costruendo quindi un ampio spettro di analisi che va oltre quello che è un panel statistico che abbiamo visto qua insieme va bene questa cosa non viene raccontata nei due libri i due libri però ci permettono cioè saranno la base con cui poi dopo se non conoscete python non potrete neanche applicare un piccolo modello o grande vediamo quello che sto cercando di preparare che io metto sempre a disposizione un po' di tutti di pattern recognition su candele va bene che ci farà fare il salto di qualità rispetto a anche a queste tabelle che hanno tutta la loro bontà però come vi ho detto sono basate su un insieme di tot azioni che è stato preso in un determinato anno anni fatto da lui beh volete mettere la bontà di avere un modello che invece è possibile applicare direttamente al titolo nostro interesse estrarne i pattern più vincenti in tempi brevi però appunto rimarrà quindi un ambito di ricerca che piaccia oppure no a me per esempio piace poco ve l'ho detto però spero di avervelo raccontato in maniera indipendente perché voi possiate capire che in realtà c'è sempre da imparare anche in cose che non utilizzi è uno strumento attualissimo per poter fare i trading quindi non ci siamo fermati a 60 anni fa ma oggi ancora i principali ricercatori lavorano su pattern di candele perfetto Emanuele è veramente tutto chiaro ci sono due o tre domande il libro in inglese c'è in italiano? il libro dovrebbe essere in italiano la copertina così che avete visto infatti se mi sbaglio è in italiano ok perfetto c'è in entrambi i casi magari tanto si trova su qualsiasi store ora non stiamo a fare sponsorizzazioni però si trova e poi Paolo ti chiedeva a proposito di questa tabella ti dice non mi è chiaro come funzionano tre candele su cinque giorni ora l'ho letta adesso la domanda forse devo leggertela prima si ma va bene va bene non ti preoccupare Fabio lo spiego anche rapidamente diciamo le candele sono sempre tre quasi tutte no? sono tutte tre conformazioni di tre candele quello che va a misurare Morris dice dopo che ha avuto diciamo tre candele diciamo di identiche al Krauss ok vabbè dovrebbero essere identiche perdonatemi la cosa ci dice dopo uno due e tre giorni dove sta il mercato? cioè dopo tre giorni è effettivamente sceso? bene un punto a favore dopo tre giorni sto qui su invece il pattern ha sbagliato non funziona questo lo vado a fare dopo tre dopo cinque e dopo sette giorni ok? quindi va a studiare l'affidabilità nel breve periodo o nel medio periodo ok e con questa spiegazione risposta anche a Max che ha appena scritto le percentuali tra parenti sono min max di affidabilità no non c'è il massimo di affidabilità perché ad esempio nel primo sotto tre giorni c'è scritto 100% quella è la prima affidabilità poi il 49% è un indicatore interno dicevi bravissimo di Morris che è impossibile decifrare per quello non ve lo c'è un algoritmo c'è la performance che ha fatto bravissimo non l'ha condiviso performance con indicatori non lo spiega però nel libro quindi resta un numero fino a se stesso lasciatemi dire questo è l'affidabilità come vi ho raccontato cioè conta quante volte dopo x giorni ha effettivamente azzeccato la previsione del trend ok e poi Riccardo ti chiede nelle Q&A se ritorni sulle candele volumetiche della slide di Eni dice perché alcune candele sono colorate altre sono cioè bianche non colorate nel corpo e questo qua lo rimanderei Fabio te lo dico io te lo dico io te lo dico io praticamente se tu prendi la candela più in alto quella hammer che vedi sopra lì che non è colorato quella è una candela rialzista mentre l'altra verde di fianco a sinistra anche se la vedete verde in realtà è una candela ribassista che ha aperto sopra il massimo precedente no quell'altra di là quell'altra di là ha aperto sopra il massimo precedente sì dovrebbe essere così ha aperto sopra il massimo precedente ma poi ha chiuso in realtà su una candela normale sarebbe rossa ok è stata l'apertura la chiusura è minore dell'apertura ok anche se la vedete verde è un po' forviante però il funzionamento è quello ok quindi se le vedete se vedete le candele verdi colorate in realtà sarebbero delle candele ribassiste nelle candele normali ok è una spiegazione un po' difficile esatto passatemi il termine diciamo è una cosa che Fineco X fa bene nel software non è necessario comprendere quindi immaginate sempre appoggiatevi sulla dimensione dei volumi esatto questo qui che è appena evidenziato verde è tutta a destra se non vedo male la chiusura è sopra la chiusura precedente giusto c'è praticamente la chiusura della candela tu immagina come se fosse una candela rossa una candela normale quella lì in alto la chiusura è maggiore della chiusura precedente però comunque è una candela ribassista perché l'apertura di quella candela è inferiore è un po' complicato però si legge così poi se volete magari ci sentiamo un attimo se avete dei dubbi sentite anche il customer care e ve lo spiego in maniera ancora più approfondita però funziona così ok va bene Maxi Fabio su Fineco Web e sulla Fineco X sto avendo difficoltà di inserire nel modello più 12 ingatori non scrolla e su Fineco Web la label dell'indicatore va beh qua Massimo e Max senti un attimo anche lì customer care che sente gli sviluppatori so che è un mondo in continua evoluzione io Emanuele so che devi scappare se lo sarei rimasto anche di più grazie sì per qualsiasi dubbio contattateci contattate anche Emanuele perché questo webinar è stato veramente interessante io ne approfitto solo per fare una cosa se mi date veramente 10 secondi via chat vi mando un link dove ci sono tutti i partner di prezzo di candele che abbiamo fatto noi in Fineco così studiatevi anche queste giusto per avere un connubio con quello che appena ha detto Emanuele e poi studiate come ha detto lui filtrando perché è importante grazie mille davvero un saluto un abbraccio ciao 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 a tutti